Prendiamo spunto dal posto di Vanessa Maniscalco. Vanessa Maniscalco dice che nel suo cane di 4 anni, un cocker, ha avuto delle lesioni dermatologiche che gli hanno fatto iniziare una terapia di 60 giorni con il glucantino. La terapia è finita, è passato del tempo e ricominciano le croste che al naso gli avevano fatto sospettare la malattia e mette una foto che in effetti farebbe pensare a un naso da leismania. Allora, questo è un discorso, Vanessa, che vale un po' per tutti. La cura della leismania si basa su alcuni pilastri fondamentali. Qual è il primo? Il primo è capire dove si è infettato l'animale. Perché? Perché se il cane non sappiamo dove si è infettato, può essere che continua a infettarsi quando tu stai facendo la cura e anche quando l'hai finita. Quindi finisci la terapia che lui è ritornato nuovamente malato. Quindi la prima cosa che bisogna fare è tutto un progetto e una messa a terra per capire dove il cane potenzialmente si sta infettando o si è infettato. La seconda cosa è stadiare il paziente e capire quanto dovrà durare questa terapia, con quali farmaci andrà fatto. La terza cosa è capire come sta lavorando il suo sistema immunitario. Perché è lì che noi dovremmo andare a puntare, altrimenti il cane tenderà a ricadere. L'ultima cosa che mi ha fatto è monitorare il paziente per verificare se si è veramente guarito. Logicamente io immagino, questo è quello che posso immaginare, che hai fatto la diagnosi, hai fatto la terapia, ma tutti gli altri pilastri non li hai fatti, altrimenti non ti ritroveresti già in questa situazione. Ti dico una cosa, in base alla carica parassitaria, noi sappiamo che 60 giorni di glucantime non riescono a guarirli tutti. Quindi potresti essere all'interno di quella fascia di pazienti che non sono guariti. Quindi il mio consiglio è, prendi contatto con noi, cercheremo di stadiare il paziente, capire dove si è ferma e fare tutto quello che serve per portarlo a guarigione.